Bella a tutti raga, bentornati su Footwork Italia in un nuovo video, io sono Luca, quest'oggi mi sono alzato diciamo decisamente aggressivo, quindi ho deciso che nel pomeriggio ci sarei andato giù pesante, ho lasciato stare il campo da calcio per una volta, sono venuto nel mio campetto preferito che tra poco vedrete molto bene, perché ho deciso di farvi vedere 5 skills impossibili o quasi, e sottolineo quasi, di calcio freestyle, via! Partiamo con la prima, neck to sole to neck, cosa ho detto non lo so, è una transizione ma la potremmo ribattezzare la molla, a voi il giudizio! Trick numero 2 ragazzi, si chiama Rogerio Move, si chiama così perché l'ha inventato un freestyle brasiliano di nome Rogerio, però siccome è il mio trick preferito quasi, no non è il mio trick preferito, è una balla, però sono uno dei più forti al mondo in questo trick, lo ribattezzerei il chiarvi volante Skill numero 3 raga, adesso è un qualcosa di decisamente più spettacolare e strano, se posso dirla tutta, questo trick viene direttamente dal Giappone, l'ha inventato i buchi, i buchi, le bio dai buchi move, via! Numero 4, questa è una sfida tra precisione, equilibrio, fino a qualche anno fa era considerato veramente impossibile, quindi metto le mani avanti, neck flick to Jonathan Manca la quinta Non aspettavo altro Vi dico solo che questo trick non è mai stato fatto nella storia del freestyle E per la prima volta lo vedrete in questo video di Footwork Italia Quindi è un grosso onore sia per me che per voi Si chiama Eldo M360 Per esteso Eldo Miccia Run The World 360 Penso non ci sia nient'altro da aggiungere Se non che è un trick Impossibile Ed eccoci qua raga Siamo giunti ancora una volta al termine del video La quinta skill mi ha Come dire Mi ha fatto sudare parecchio E non ci sto più dentro con la testa Mettete un like se il video vi è piaciuto E scrivete nei commenti sotto Secondo voi qual è la skill migliore E la skill più difficile tra queste Ci vediamo come sempre venerdì prossimo Con un nuovo video Bella raga Ciao Ciao